Ciao, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una ricerca molto interessante sul rapporto tra intestino e tono dell'umore. Non soltanto il tono dell'umore, la depressione, l'ansia crea dei sintomi sull'intestino e quindi curare la depressione permette poi di avere un miglioramento anche della sintomatologia gastroenterica, ma anche il contrario, cioè l'intestino può influenzare il nostro tono dell'umore. Come? Allora c'è un rapporto diretto tra microbiota intestinale, cioè i nostri germi intestinali e il nostro tono dell'umore. È stato dimostrato questo nei topi, nei roditori, in una ricerca appena pubblicata su Molecular Psychiatry, una ricerca a nome, il primo nome dell'autore, l'autore è Batnagar, che ha dimostrato in un gruppo di roditori che dividendo i roditori in depressi, diciamo, con inerzia, con minore attività, con minore vivacità e roditori invece con una buona vivacità. Se si trasferisce il microbiota dei depressi, diciamo, roditori nei roditori non depressi, questi diventano depressi e viceversa trasferendo il microbiota, cioè i germi intestinali e quindi le feci del roditore che è non depresso. Nel roditore depresso si può dare un miglioramento del tono dell'umore, quindi il nostro intestino attraverso il microbiota può influenzare il nostro tono dell'umore. Questo dà degli spunti incredibili per la ricerca scientifica nell'uomo, ovviamente, e soprattutto per poter riscontrare una nuova terapia per la depressione, una nuova terapia futura. Nel frattempo noi cosa possiamo fare all'interno del progetto Mente Giovane? Innanzitutto curare il nostro tono dell'umore e soprattutto curare la nostra alimentazione, il nostro microbiota intestinale, perché anche il nostro microbiota intestinale può dare un'alterazione del nostro tono dell'umore. Quindi non solo il tono dell'umore influenza l'intestino, ma anche l'intestino può influenzare il nostro tono dell'umore. Con questo ti saluto, ti abbraccio, alla prossima. Ciao!